Ben ritrovati a tutti voi. L'appuntamento settimanale dedicato alla Diocesi di Lodi e al territorio del Lodigiano, spazio di informazione che apriamo parlando del Giubileo degli Uomini del Mondo della Politica Lodigiana. Il dettaglio in questo servizio, il Vescovo, rivolgendosi ai rappresentanti delle amministrazioni locali, del mondo sindacale e delle associazioni, ha parlato di società, chiesa e laicità positiva. In 200 rappresentanti del mondo politico sindacale associativo si sono presentati di fronte alla Porta Santa in Cattedrale per varcarla preceduti dal Vescovo Monsignor Maurizio Malvestiti e raggiungere la cripta dove si trovano le reliquie di San Bassiano. Qui il direttore dell'ufficio di Ucesano per i problemi sociali Andrea Bruni ha proposto brevi riflessioni sul senso della misericordia che rende le relazioni tra le persone e le istituzioni migliori, più cordiali e attenti al bene, favorendo la reciproca comprensione. Quanto bisogno ci sia di comunicare e capirsi meglio è considerazione fin banale, ha detto Bruni, se non fosse troppe volte disattesa. Quindi un breve momento di preghiera con il Vescovo e successivamente i convenuti si sono recati nella sala dei Vescovi del Palazzo Vescovile per un incontro durante il quale Monsignor Malvestiti ha sviluppato una riflessione sul tema società e chiesa per una laicità positiva. Dapprima il Vescovo ha chiarito il termine di laicità positiva citando alcuni passaggi di un discorso dell'allora Presidente della Repubblica Francese Sarkozy era a Roma il 20 dicembre del 2007 dove tra l'altro espresse l'augurio per l'avvento di una laicità positiva che pur vegliando alla libertà di pensare, a quella di credere o non credere non consideri più che le religioni sono un pericolo ma piuttosto un punto a favore. Mentre per quanto riguarda il contesto italiano il ricordo è stato del discorso non pronunciato alla sapienza di Roma da Papa Benedetto XVI poi da quanto detto da Papa Francesco a Firenze nel recente convegno ecclesiale dove viene ricordata la capacità del dialogo cercando il bene comune senza dimenticare che non esiste un umanesimo autentico che non contempli l'amore come vincolo tra gli esseri umani. Su questo si fonda la necessità del dialogo e dell'incontro per costruire insieme con gli altri la società civile e è a questo punto che il Vescovo ha formulato una proposta. Nella collaborazione tra società e Chiesa in nome di una laicità positiva né assenza dell'una nei confronti dell'altra né ingerenza né opposizione Queste sono le convinzioni che mi animano e che animano la comunità. Mi permetto di parlare a nome della comunità ecclesiale. Il nostro sì convinto ha la vicendevole ispirazione perché la comunità civile ci aiuta ad entrare sempre di più nel concreto delle problematiche che conosciamo anche noi perché è la stessa gente che incontriamo ma forse noi siamo più preoccupati della dimensione spirituale e abbiamo bisogno di non essere disincarnati noi che seguiamo uno che ha fatto della incarnazione il suo avvicinarsi inaudito nei confronti dell'uomo. Allora non dobbiamo essere assenti, non dobbiamo essere ingerenti, non ci deve essere opposizione, sì alla vicendevole ispirazione per il patrimonio di ciascuna delle due parti il più possibile sì alla collaborazione nel riconoscimento delle radici comuni e delle possibili prospettive comuni e queste radici comuni e queste prospettive comuni ci aiuteranno a perseguire ciò che è specifico dell'una e dell'altra e mai a rinunciare all'identità di ciascuna. Società e Chiesa riconoscano le comuni radici, le possibili comuni prospettive e ciò custodirà l'identità vicendevole rendendole capaci di realizzare anche ciò che è specifico dell'uno o dell'altro ambito. I nostri padri costituenti, aggiunto Monsignor Malvestiti, hanno intuito che i valori religiosi meritano di essere promossi in quanto aiutano la crescita e la maturazione della società civile e per quel che riguarda il nostro cammino futuro? Con il già citato Giovanni Paolo II la Chiesa ha già fatto una scelta di campo in fatto di laicità positiva quando ha detto nella sua prima enciclica che la via della Chiesa è l'uomo. Ci vogliono le mediazioni per le mediazioni in quanto a laicità positiva quanto a collaborazione tra società e comunità ecclesiale vi devo solo chiedere, cari amici, di non dimenticare le tre vie che ho indicato nella prima festa di San Bassiano che ho celebrato con voi nel 2015. La famiglia, i giovani, il lavoro. Con l'attenzione a questi tre beni preziosi, a queste tre risorse potremo affrontare la grande sfida della accoglienza ad intra e ad extra perché sempre più numerosi sono i lodigiani poveri i poveri che parlano lodigiano purtroppo ma sempre insieme non potremo fare a meno non potremo chiudere gli occhi sui numerosi poveri che vengono alle nostre porte perché il problema è globale il problema è di tutti. Allora l'ultima parola è questa insieme cos'è la laicità positiva? È stare insieme, riflettere insieme e insieme cercare di dare risposte a chi? Alla gente quella concreta che è l'interesse di tutti noi. Col prossimo servizio invece vogliamo parlare di un momento di preghiera e di riflessione che si è svolto al Carmelo di Lodi ed indirizzato ai giovani che stanno compiendo il cammino di preparazione verso la GMG di Cracovia. Il tema affrontato in questo incontro era confessarsi, no grazie a condurlo Don Luca Ferrari del gruppo Giovani e Riconciliazione. La riconciliazione è su questo sacramento che nella chiesa del Carmelo di Lodi un centinaio di giovani della nostra diocesi hanno partecipato a un momento di preghiera e riflessione con Don Luca Ferrari di Giovani e Riconciliazione. Una riflessione guidata partendo dalla parabola evangelica del figlio prodigo e suggellata dal gesto compiuto ad uno ad uno quello del bacio del Vangelo. Il titolo di questa serata era emblematico confessarsi, no grazie ma perché i giovani appaiono disaffezionati al sacramento della riconciliazione? Questo è un grande mistero in effetti già da tre pontificati a partire da Giovanni Paolo II c'è una segnalazione chiara della crisi di questo sacramento e l'insistenza e la proposta accorata perché tutti lo riscoprano. Effettivamente nonostante questi ripetuti inviti c'è via via una disaffezione che si registra un po' ovunque tranne qualche rara eccezione. Le ragioni sono le più diverse sicuramente è un mistero come dico perché si tratta del dono più bello più grande che il Signore risorto ha fatto alla sua chiesa un dono offerto gratuitamente a tutti gli uomini che sembra che gli uomini non apprezzino o che trovino più faticoso più impegnativo di quanto invece non è motivo e fonte di gioia. Tante volte questo è legato all'esperienza che uno ha di Dio cioè un giovane che non conosce Dio non ha alcun interesse a recuperare il rapporto con lui o a vivere sotto il suo sguardo. Altre volte è capitato che qualcuno abbia avuto un'esperienza negativa anche nella confessione non è sempre una scusa. Questo talvolta è vero l'esperienza di sentirsi giudicati di sentirsi anche in qualche modo condannati da uno sguardo che ti scruta non con benevolenza può allontanare soprattutto i giovani che sono sensibilissimi. Nello stesso tempo quello che mi sento di dire è che vedo nei giovani la capacità di riconoscere veramente nel sacramento della riconciliazione un dono grandissimo perché sono più sensibili rispetto agli adulti alla qualità, alla bontà delle relazioni di amicizia ma anche con i genitori anche con la propria famiglia e proprio per questa ragione capiscono il peccato come la rottura di una relazione. La nostra paura ha detto ai giovani Don Luca è che di fronte all'errore nessuno sia capace di accoglierci veramente e allora siamo costretti a mostrare quella parte di noi che gli altri vogliono vedere ma domandiamoci c'è qualcuno che può raccogliere il mio cuore che può fasciare le mie ferite? Da soli significa morte ha aggiunto Don Luca che la solitudine è davvero la conseguenza del peccato l'esperienza della solitudine è bere il veleno del peccato la riconciliazione è un atto di umiltà che spalanca le porte di tutti al bene. Il Signore cosa vuole fare questa sera? Aprire gli occhi del nostro cuore ma lo immaginate ha aggiunto quale bene il Signore ha preparato per noi se solo ha predisposto questo atto di umiltà? Quali gesti e parole quindi devono trovarsi per far sì che i giovani si avvicinino al sacramento della riconciliazione? I giovani non sono sciocchi io credo che i gesti debbano essere il più possibile aderenti alla verità della loro condizione e del dono che viene offerto a loro naturalmente nella misura in cui un adulto un educatore un genitore un sacerdote comprende qual è il cuore di Dio nei loro confronti riesce anche a manifestarglielo correttamente. Al termine la benedizione da parte del Vescovo che ha ricordato il valore della preghiera e della scelta di libertà compiuta dalle suore del Carmelo hanno scelta la vita di povertà ha detto obbedienza di fede a Cristo e la Santa Chiesa nella forma della vita carmelitana scelto di entrare in una cella recinto santo che è il monastero carmelitano perché l'amore di Cristo potesse dilatarsi al mondo intero. Abbiamo chiesto anche ad alcuni giovani cosa sia per loro la riconciliazione. È per me un pentimento tutto parte dalla preparazione alla confessione in cui è un momento di deserto con me stesso e in cui rifletto innanzitutto sul tempo trascorso dell'ultima confessione e dopo sui peccati che ho fatto sui comportamenti che ho avuto e su come posso migliorarli. Dopodiché l'approccio con il sacerdote che in quel momento ovviamente rappresenta Dio e dopo c'è il momento dell'appendimento e della penitenza. È un momento in cui si incontra il Signore comunque in un diciamo in uno stato di intimità e che ti porta comunque a confessare cose che di cui ti potresti non so di cui ti potresti diciamo di cui non ti non entri in confidenza con le persone a tal punto da dire queste cose ad altri però è un momento di intimità che ti può comunque aiutare a sentirti libero e a migliorare anche questo rapporto che non è solamente un momento di confessione di cose negative ma anche un momento per ricordarci cose che possono essere invece positive che ci aiutano anche ad avvicinarci a lui. La confessione è sicuramente un momento liberatorio nel momento in cui è veramente sentito perché infatti penso che non bisogna viverlo come prima di Pasqua bisogna confessarsi o prima di Natale bisogna quindi non viverlo come un dovere assolutamente viverlo come un momento di ritrovo come magari ci si può trovare un momento di bisogno a parlare con l'amico con la mamma con le persone vicine ecco anche in oratorio comunque in questo ambito della chiesa se c'è fede se si crede nel Signore può essere un bellissimo momento di incontro con il parroco comunque chi sia di fronte e sicuramente è molto non è molto facile perché comunque ci si ritrova a parlare con qualcuno e molto spesso penso che i giovani o comunque chiunque abbia paura magari del giudizio di andare a raccontare qualcosa per la quale comunque rischerebbe di essere giudicato ma in realtà non è così perché penso che sia proprio il momento e il luogo in cui non si è giudicato da nessuno e si può essere se stessi nato dopo il giubileo come si è sviluppato il cammino di giovani e riconciliazione? in quell'occasione appunto abbiamo inteso soprattutto valorizzare alcuni aspetti del sacramento che normalmente sono oscurati particolarmente la dimensione ecclesiale comunitaria del sacramento ogni sacramento non è una devozione privata ma è un'esperienza di chiesa un'esperienza del Signore vivo l'espressione della gioia che appunto indicavo prima ma che effettivamente rappresenta il culmine pensiamo anche solo alle parabole della misericordia concludono tutte con la festa di Dio e degli uomini e se non concludono così significa che la riconciliazione non è avvenuta pienamente l'aspetto liturgico anche questo ci sembra importante cioè la confessione è un sacramento e va preparato come tale va coinvolta la comunità in questa preparazione così come avviene per la messa e poi l'aspetto del cammino questo è un aspetto che via via in questi 15 anni è emerso sempre di più e vorrei dire da allora sono stati più di 250 gli eventi nazionali internazionali diocesani che abbiamo curato e ogni volta si è approfondito il senso anche di questa intuizione in questo momento particolarmente ci piace sottolineare il fatto che ogni sacramento non è un evento a sé sia pure ben celebrato sia pure ben compiuto ma fa parte di un cammino non è detto ad esempio che un giovane che è un adulto sia in condizioni sempre di poter ricevere la soluzione in quel momento in cui la richiede ma questo non significa una porta in faccia un passo indietro al contrario è un gesto che il Signore accoglie volentieri benedice fino a portarlo al compimento e quindi in questo senso anche una comunità che accompagna ricorda che quell'atto che uno compie non è magari il tentativo ultimo definitivo talvolta disperato di ritrovare una comunione con la Chiesa ma è certamente qualche cosa che già la Chiesa il Signore aspettavano preparavano accompagneranno nei giorni scorsi nel seminario di Lodi duplice appuntamento in mattinata con i sacerdoti della Diocesi nella serata alle 21 i rappresentanti parrocchiali sempre della Diocesi di Lodi con fratello Goffredo Boselli della comunità di Bose con il quale sono stati ripresi i temi trattati durante il convegno ecclesiale di Firenze sulle vie di un nuovo umanesimo le vie del nuovo umanesimo il convegno di Firenze di questo si è parlato nell'aula magna del seminario Vescovile di Lodi quale prima tappa del cammino diocesano sulla traccia di quanto elaborato durante i cinque giorni di Firenze ed incentrati sul tema in Gesù Cristo il nuovo umanesimo a parlare di fronte ai sacerdoti della Diocesi in serata lo farà con i rappresentanti parrocchiali lodigiani fratello Goffredo Boselli lodigiano della comunità di Bose e componente la giunta del comitato preparatorio del quinto convegno ecclesiale nazionale di Firenze al quale abbiamo chiesto quale cammino abbia indicato per tutti noi il convegno fiorentino Io direi che ha indicato più cammini innanzitutto il cuore del convegno di Firenze è stato il discorso del Papa questo indubbiamente che ha creato un clima veramente di effervescenza un grande clima di attesa anche nei lavori il Papa ha indicato un cammino alla Chiesa italiana un cammino non tanto nuovo ma un altro passo un altro stile per la Chiesa italiana e gli ha indicato fondamentalmente io penso due cammini grandi un cammino di dialogo con la società di confronto aperto diceva di dialogo che non sia negoziazione ma che sia il portare un contributo alla società italiana e questo mi pare fondamentale e poi ha indicato un cammino all'interno della Chiesa italiana che è il cammino sinodale ovvero un cammino fatto insieme tutto il popolo di Dio i pastori con i laici per affrontare il tema appunto dell'umano di ciò che è oggi rende più umano l'uomo di oggi ora tocca a noi ora tocca a noi ne abbiamo tutte le capacità ne abbiamo tutte le forze la Chiesa italiana è una Chiesa una Chiesa con molti doni il Papa l'ha definita una Chiesa adulta con una grande storia si tratta davvero io penso di cambiare passo di imparare un nuovo stile lo stile sinodale al quale la Chiesa italiana forse non è abituata come del resto tutta la Chiesa cattolica ma è qualcosa di necessario e decisivo Terrorismo Isis e Medio Oriente sono stati letti con occhio critico da Fulvio Scaglione vice direttore di famiglia cristiana invitato quale ospite relatore dal MEI il movimento ecclesiale di impegno culturale della nostra diocesi nella sua relazione Scaglione ha messo in luce alcune verità scomode che non trovano spazio su giornali e in tv a metà del percorso culturale proposto per quest'anno il MEI che ha invitato il vice direttore di famiglia cristiana Fulvio Scaglione per fare luce su terrorismo Isis e Medio Oriente per conoscere cause interessi e responsabilità di fronte al senso comune che vede nella guerra e nello scontro tra civiltà l'unica strada percorribile Noi siamo immersi come cittadini come utenti dell'informazione dentro una narrazione che io credo non regga più con delle divisioni buoni cattivi che non stanno più in piedi e soprattutto con un atteggiamento di deresponsabilizzazione rispetto a quello che il nostro mondo fa in altri mondi o con altri mondi che deve essere superato se noi andiamo in libreria in questo periodo troviamo una miriade di libri su attacco all'Occidente attacco alla nostra civiltà alla nostra cultura alla nostra fede attacco 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 dovremmo anche cominciare a riflettere sugli attacchi che abbiamo portato noi alla cultura alla civiltà alla politica eccetera eccetera degli altri questo non per dire che abbiamo ogni colpa del mondo perché non sarebbe sarebbe ridicolo sostenerlo però se noi non arriviamo ad una visione più equilibrata dei fatti della storia contemporanea e anche recente difficilmente riusciremo poi a elaborare le soluzioni per uscire da certi pasticci sono tante le verità scomode che non trovano spazio sui giornali e in televisione secondo Scaglione che dopo gli attentati di Parigi dello scorso novembre scriveva se vogliamo eliminare l'ISIS sappiamo benissimo quello che bisogna fare e a chi bisogna rivolgersi facciamoci piuttosto la domanda vogliamo davvero eliminare l'ISIS è la nostra priorità poi guardiamoci intorno e diamoci una risposta ma che sia sincera per favore di chiacchiere e bugie non se ne può più io credo che sia molto difficile per esempio far passare una realtà che riguarda l'ISIS ed è il fatto che l'Occidente non fa la guerra all'ISIS anche la Russia non fa esattamente la guerra all'ISIS ma l'Occidente certamente non fa la guerra all'ISIS nonostante abbiamo dichiarato che questa era la nostra assoluta totale priorità per tutta una serie di ragioni e nonostante il fatto sia chiaro che l'ISIS è un elemento devastante oggi nella realtà del Medio Oriente tanto per dirne una l'Occidente dà delle ricette ma l'Occidente a me non pare che dia delle ricette mi pare soprattutto impegnato a spaccare a smontare abbiamo smontato l'Iraq abbiamo smontato la Libia con la guerra del 2011 abbiamo smontato o stiamo contribuendo a smontare la Siria che non vuol dire che ciò che c'era prima Saddam Hussein Gheddafi Assad fosse la perfezione fosse l'ideale però siccome nella politica ahimè l'ideale assai raramente si raggiunge bisogna cominciare a fare i conti col meno peggio e quello che vediamo oggi che è anche frutto di nostre azioni è sicuramente il peggio del peggio parliamo adesso di Sammy Basso il ragazzo affersto da progeria conosciuta come la sindrome da invecchiamento precoce una sindrome molto rara colpisce in medio un bambino ogni 8 milioni venuto a Lodi ospite dell'Unitre Sammy Basso ha parlato della sua esperienza di vita del suo viaggio negli Stati Uniti lungo la Route 66 documentato in un video e in un libro intitolato il viaggio di Sammy e sull'attività della Onlus che porta il suo nome ma anche della sua forza e voglia di vivere la progeria conosciuta come sindrome da invecchiamento precoce è una malattia genetica rarissima che colpisce un bambino ogni 8 milioni sono bambini che nascono all'apparenza sani ma entro pochi mesi di vita mostrano i primi segni della malattia incluso il brusco rallentamento della crescita la perdita del grasso corporeo la perdita dei capelli la pelle invecchiata e in pochi anni presentano i tipici disturbi delle persone anziane per questo motivo le aspettative di vita sono ridotte ma si tratta di bambini attivi intelligenti come tutti Sammy Basso è affetto da questa sindrome oggi era l'odia l'unitra per parlare del viaggio compiuto negli Stati Uniti lungo la Route 66 della sua voglia di vivere dell'attività svolta dalla Onlus associazione italiana progeria Sammy Basso che ha come scopo quello di promuovere la ricerca scientifica per sconfiggere questa sindrome l'idea del viaggio è nata così parlando con i miei cugini avevamo in mente questa strada che fa fare un sacco di avventure e poi per una serie di fortunati eventi sono stato intervistato da Wild e il regista era in contatto con National Geographic e insieme hanno organizzato questo viaggio seguito le telecamere e hanno fatto sì che si realizzasse dunque è stato nato quasi per sbaglio nato quasi per sbaglio ma quante sono le sensazioni i ricordi che ancora sono presenti che affiorano immagino tantissime la Route 66 è lunga 3.700 km e è composta da paesaggi diversissimi tra loro da persone diversissime dunque veramente un sacco di paesaggi e anche tante persone quanta umanità hai incontrato in questo viaggio molta moltissima noi abbiamo deciso di fare un viaggio che fosse non solo turistico ma proprio anche vissuto in mezzo alle persone dunque abbiamo incontrato la comunità afroamericana che canta il gospel abbiamo incontrato i motociclisti abbiamo incontrato gli Amish gli indiani d'America dunque carico proprio l'umanità a proposito degli indiani d'America è vero che un indiano Navajo le ha regalato un nome indiano tra l'altro bellissimo sì Larry Holiday la nostra guida a Navajo nella Monumento Valley dopo averci appunto fatto vedere tutti i luoghi della sua tribù mi ha dato questo nome Chah Narai che vuol dire persona che viene lontano e che ha ancora molta strada da fare e è bello perché quando loro ti danno un nome fai un po' parte della loro tribù parliamo della Onlos per quanto riguarda la sollecitazione della ricerca per trovare un rimedio una cura a una malattia così rara quando l'avete costituita e come articola la propria campagna anche di sensibilizzazione la nostra associazione nasce nel 2005 sono dieci anni di attività nasce proprio perché in Italia non c'è la ricerca e l'unica ricerca era attuata negli Stati Uniti noi appunto raccogliendo fondi facendo conoscere la progeria e con qualsiasi evento a partire da testimonianze a spettacoli a motoraduni veramente qualsiasi evento siamo riusciti a continuare la ricerca negli Stati Uniti aiutarla per lo meno e siamo riusciti anche a portarla qui in Italia dove abbiamo assieme al CNR di Bologna abbiamo fondato il network italiano di aminopatie dove si studia anche la progeria e si stanno avendo dei buonissimi risultati e quello che noi puntiamo a far capire alla gente è che la progeria è conosciuta come invecchiamento precoce perché porta un sacco di problemi che hanno le persone anziane scoprire una cura per la progeria dunque non è scoprire una cura per cento casi al mondo ma vuol dire scoprire una cura per i problemi che hanno milioni di persone e noi cerchiamo di puntare su questo anche magari per sensibilizzare i governi e gli stati quali sono i contatti anche via web che le persone possono attivare proprio per conoscere in modo più approfondito la vostra attività noi abbiamo un sito scrivendo associazione italiana progeria l'essami basso fuori subito il nostro sito dunque gli dice spiegati tutto oppure abbiamo anche una pagina facebook dove cerchiamo di mettere tutti gli eventi che andremo a fare in futuro e dunque ecco queste due queste due piattaforme intanto parliamo del futuro adesso c'è l'università in corso giusto? anche io sto seguendo l'università faccio scienze naturali a Padova è il primo anno con un po' di difficoltà perché comunque c'è un sacco di cose da fare oltre allo studio però ci sto provando qualche altro progetto tipo il viaggio? beh i progetti per altri viaggi ce ne sarebbero a bizzeffe spero di riuscirne a realizzare altri questo sì poi un sogno in particolare per ora no per ora mi concentro un po' su quello che sto facendo e in futuro però c'è spazio per molti sogni se il concenso su quello che sta facendo non è poco eh non è poco no è vero però dai è anche una cosa molto bella che mi dà molto anche personalmente è tutto per questo nostro spazio dedicato alla diocesi di Lodi al territorio dell'Odigiano ci rivediamo la settimana prossima arrivederci all'Odigio Grazie a tutti.